Senza l'alta velocità Pescara-Roma, l'Abruzzo resterà indietro, tagliato fuori dal resto d'Italia. Ne è convinto Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Pescara-Chieti, che ha lanciato l'allarme sulle incertezze legate al futuro dell'infrastruttura ferroviaria che collega l'Adriatico-Il Tirreno. L'appello è stato rivolto alle istituzioni nei giorni scorsi, a margine di una conferenza stampa congiunta con Confindustria-Chieti-Pescara per presentare la piattaforma digitale ABC Abruzzo Blockchain per la certificazione delle piccole e medie imprese del territorio. Sono preoccupato per l'Abruzzo, perché l'Abruzzo sembra che stia rimanendo fuori da tutti gli investimenti infrastrutturali previsti dallo Stato e finanziati con i fondi del Regal Refund. E se noi rimaniamo fuori da questi investimenti, cioè sembra che non ci rientrerà il progetto Roma-Pescara dell'alta velocità, è un danno irreversibile per la nostra regione. Per cui noi come Camino di Commercio abbiamo fatto un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, al Presidente della Regione, ci auguriamo che qualcuno ci risponda e ci assicuri pure che qualche passo avanti lo facciamo e ci rientraremo in qualcosa. Perché? Io da abruzzese voglio far notare una cosa a tutti, spero che facciamo delle riflessioni. L'alta velocità adriatica, penso che ormai non abbiamo speranza in quanto Bari, che poteva essere il motore trainante per l'alta velocità, ormai hanno progettato e faranno l'alta velocità Bari-Napoli. Per cui, una volta che l'alta velocità ha fatto Bari-Napoli, Napoli va a Nord Italia, Molise, Abruzzo e Marche rimarranno fuori dall'alta velocità in ogni caso. E sarebbe una cosa gravissima, per cui mi auguro che questo appello venga raccolto da tutte le forze politiche, di tutti i colori, perché qui sto parlando come Presidente della Camera di Commercio, come rappresentante di tutte le attività produttive e credo che tutti abbiamo bisogno di collegamenti, altrimenti la Regione Abruzzo può solo tornare indietro.